Ragazzi, volevo iniziare io questo gameplay per dirvi che sono colpito nel profondo, sono estremamente dispiaciuto per l'accaduto E anche loro saranno molto delusi Stai zitto sto parlando Sono molto delusi Stai zitto sto parlando Mi dispiace, so che ci avete creduto fino all'ultimo L'importante, lo sappiamo tutti quanti, è vincere e non partecipare Vedremo di recuperare in questa partita Adesso puoi parlare Ma non è così, non è vincere Allora, l'importante non è né vincere né partecipare L'importante è scorreggiare in ascensore Livello casuale Livello casuale, dai Questa è una partita singola C'è in ballo una festa estrema, hashtag Ma è una partita singola questa Perché? Vuoi fare una partita? Ah giustamente, dopo tutte queste torneo Ma vatti il torneo a sto punto, scusami Ciacchete Perché a te ti escono i personaggi più sculati in assoluto? No, ma non è un personaggio sculato No, no, dici veramente di no? Vuoi ancora... Ah, del ponte Vuoi parlare? Vogliamo raccontarlo agli amici a casa? Guarda a te che culo di merda gli asce il gatto Vogliamo raccontarlo un po' agli amici a casa? Dai, fai studiare Oh, raga Devo far per forza una cosa di sto genere Però, devo raccontare Lo sfigato è sempre Mario, giusto? Giusto La puttana che vengo a prendere a casa Che sgozzo di notte Diciamo che hai fatto un buon tiro di merda Della puttana della scrofa Ma tu, continua a parlare, mi raccomando Beh, finché ho 40.000 punti e tu nei 7.700 Posso anche fare le pirouette Prima di tirare Guardate, guardate, guardate Sta facendo un disastro 15.000? Devo fare un po' di tiri strani per recuperare Né facile, né facile Ma ci proveremo Anche se la stanchezza oggi la fa da padrona Artisticamente parlando Allee! A me piace ricordarvi che c'è una playlist Ormai chi ci segue da tanto tempo Sa che io ripeto sempre le stesse cose Ma se le ripeto e voi non le fate Che cazzo le ripeto a fare, eh? Infatti potresti smettere di ripetere Maffanculo Allora No, con quel potere sapete che cosa farà adesso? Sapete che cosa farà? Lo tolgo perché comincia a essere pericolosetto Capito? Lui con quel potere di merda Che poi mi risale la china E fa le cose che... C'è in ballo una festa estrema Quasi Però porca puttana di una puttana Possiamo chiamare questo gameplay C'è in ballo una festa estrema Fermo Ma questa è cosa dell'essere in ballo con le cose, no? Che vuol dire c'è in ballo? Fermo Porca buono Ah E recupera tutti i punti Lo supero Proprio faccio il giro a 360 gradi E dico Culo di... Culo di merda proprio E... PAM Ma che cazzo di... Sì vabbò Stavi pure a calcolare quello, no? Perché non era calcolato Ma sta zitto Era calcolatissimo Ma sta zitto Tu lo sai che era calcolato Questo era calcolato Non è il tuo Dove fare il cazzo di che... Adesso ci sono un po' di problemi Ci prova E lascio la festa estrema a Redez, ragazzi Non è detta, eh San Montana San Montare? La mamma sì, mi sa un sacco Ragazzoli, c'è un meno 25 in ballo Porca di quella troia Non c'era la festa estrema Ma la pittà della mamma Dai, è facile sto dire, no? È facile Puoi farlo qualsiasi giorno della settimana Questo tiro È molto facile Faimi sto tiro Ok Ma come tira i piedi, va? Dovevi come tira i piedi? Ci siamo Ci siamo Scusatemi la parlata un poco partenopea Ma abbiamo visto insieme un film al cinema Ma dai a fare in culo Non te raperò Che c'hai tu? Bjorg Bjorg Bjorg, è chi cazzo? È l'alieno Ma tu, ma guarda io Altro è una delle mie cantanti preferite Le Bjorg 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 Ah Non sa manco il suo personaggio preferito come si chiama, eh Capito? Il tuo personaggio si chiama Bjorg Ma se tu le hai chiamato il capricorno Io che cazzo ne so Io so esattamente come si chiama il mio gambero di mare Ah Madonna, non ho preso neanche un rosso Furtiti Ok, il gambero di mare è il tuo personaggio preferito Ma in questa mappa potrebbe regalare soddisfazione, sai tu? No Sì Oh, ma vuoi salì, mocca a mammita Bella, bella così Quella baldracca Io credo nell'umanità Credo nella sua capacità di reinventarsi e di fare... Ma che culo di merda Porca di quella puttana Cioè io veramente Ho fatto un bel tiro Non è vero niente Sì, 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 sì Bene Un 5006 molto doloroso per quanto mi riguarda, eh Guarda lui come ci prova a fare un recuperone Ma questo gli va male male Porca troia puttana Va male male Eh ragazzi, devo rischiare, devo rischiare Male male è la canzone che cantano i cinesi Male male Porca troia Il meno 25, appena rompe i coglioni che mi dice male 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 Il meno 25 lo colpisce Che ti piace andare in giro? Non è, facciamo Porca troia Male 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 Questa molle Non ti serve a niente, la lascio a sta Cazzo che ti frega, non mi serve niente Io lo aiuto e poi lui mi dice Oh, adesso ho la guida E siccome siamo pericolosamente vicini Come diresti tu, siamo Ma che cazzo In ballo Ma che merda, oh, porca di quella In ballo con la festa estrema, con l'ultima palla Fammi sta festa estrema e mi spoglio nudo in camera E lo pubblico su internet Peccato che io non sia interessato a fare questa cosa Lo faccio su Twitch, così mi va in mezzo Patapam Tiro lungo Supera Vince la battaglia ma non la guerra Per la guerra ci sono ancora in ballo 10.000 punti Però, però C'è una cosa che è combattuto Capito come funziona? Dannassau, dannassau Che cazzo ti ha già fatto? Dannassau che è una Prostituta cubana Ma sai che non importa? Ma che è sta mappa? Ma che è sta mappa? Ma che cazzo ne so Ma che vuoi dalla vita? Un tucano Mi vorrei una mappa decente Questa fa schifo Non so che cazzo fare Eh, neanche io saprei cosa fare al tuo posto Forse mi affiderei No All'istinto Sai che c'ho una grossa paura che riesca fuori? Eh, lo so Lo so Capisco E' borca di quella mignotta Guarda lì L'hai evitato Guarda quella zoccola di nerd Sai che è difficile sta mappa ragazzi? Veramente tanto Perché a un certo punto esce fuori E non entra più dentro E' tutto chiuso E prendilo tutto Ok Hai fatto il maggior numero di punti che si potessero fare su questa mappa Sono sicuro di questo Guarda signor come ci prova a fare il viaggio della speranza E gliela fa E gliela fa Molto bravo Non serve a niente ma Sì, va bene Sì, va bene Ma che cazzo Stiamo a parla fa Ma che stiamo a fare? Sì, sì, sì Mi sto comportando bene ragazzi Team Synergo Sempre nel cuore Prendi quello E guarda come va dritto giù Infuni via Ora L'importante è partecipare Come disse il facchino Barone recuperazione Marca puttana che schifo Madonna che tiro di merda Però almeno Ma quindi le prende tutte e due le pare Aspetta aspetta Boom Bitch Recupera questo Recupera questo C'è una veste estreme in ballo Giusto quattro palle per quattro campioni Ah ci provi eh No io ci riesco sempre No che ci provo Ci provi Mi piace il tuo spirito Io ci... Ragazzi Dio dei tiri lunghi Mi hai fatto premere Io non volevo premere Non ho fatto niente Hai sbattuto e mi hai cliccato il coso Cioè Risentite l'audio per cortesia Ma che cazzo Ma pure trucchi le partite Ma proprio senza pietà Ma io che cazzo ne so Senza pietà Sei una cazzo di pietà Senza La manina di Verluc Fanculo va Ecco la tua però Quella grande puttana Sto ancora sotto i 10.000 punti ragazzi Sto a zero palle Deve fare un meno 25 Perché io posso Quindi devo Devo gufare In una maniera No mi pari Allontanati Se faccio meno 25 Calcoliamo un attimino 100.000 100.000 Meno 25 Sono Meno 25.000 25.000 diviso 2 Sono 12.000 No Comunque Comunque Manneggia San Crispino Non mi dovete rompere i coglioni Mentre gioco a tempo Mi dovrei aver vinto Ha vinto lo stesso Avevo vinto È la matematica che ha vinto Scusate il culo Ha vinto la matematica Ci vediamo alla prossima partita Perché il torneo Lo ricominciamo a gennaio Quindi? Oggi che giorno è? Oggi è 26 novembre Non lo devi dire in camera Ah no Oggi è È già in metà dicembre La vinci No È intorno alle prime settimane No questo sarà La prima Prima settimana di dicembre La prossima partita È È Grazie a tutti.